Domenico Restuccia dal Teatro Aristona, cioè dalla Porta Carraia. Chi hai incontrato poco fa per noi? Allora, ho incontrato, in realtà ieri sono rimasto qui dopo la diretta alla Porta Carraia e ho incontrato Fiorella Mannoia e Reng e Neck e hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Bella Ma. Ve li faccio vedere. Dai, dai, sentiamoli e vediamoli. Fiorella e Neck e Reng. Da Bella Ma ti vogliamo fare un saluto. Allora, con che spirito arrivi a questa edizione del festival? Nello spirito con cui si arriva sempre al festival. Emozione, divertimento, è lo stesso, non cambia, è sempre lo stesso. Però rispetto alla prima volta quanta consapevolezza in più c'è? Sì, questo sì, mano a mano che passano gli anni più la tua carriera si consolida e più senti la responsabilità, soprattutto di metterti in gara. Però io l'ho fatto già sette anni fa e sono stata la prima, devo dire, ad aprire la porta dei cantanti più conosciuti in gara e sono stata contenta di averlo fatto. Più passa il tempo e più senti responsabilità. Però quest'anno mi voglio divertire. Quest'anno come ti sei resa conto che la canzone era giusta per partecipare a Sanremo? Non ti sbagli mai. Quando ti arrivi e hai tra le mani una canzone valida, il primo pensiero è sempre Sanremo. Sono le canzoni che ci portano qui. Né nessuno, né i cantanti, le canzoni ti chiamano e le canzoni ti portano qua. A Bellamà parliamo di confronto generazionale. Cosa ti senti dire ai ragazzi della generazione Z? Che messaggio anche porti tu sul palco per i più giovani? Quale messaggio porto io ai più giovani non lo so. In realtà anche non mi sono mai posta questo come problema. Nel senso che se poi i giovani si sentono rappresentati da quello che canto, mi fa solo piacere. Se sono punto di riferimento per qualcuno, ne sono onorata. Ma non faccio niente per poter piacere ai giovani. Faccio quello che sento di fare come una donna della mia età e con la mia storia. E quello che mi sento di dire, leggete, leggete. Grazie, un saluto a Bellamà. Grazie, grazie a voi, grazie di cuore. Io ho provato a intervistarvi alcune volte ma siete più bravi da soli. Cioè domanda, botta, risposta da soli perché vi conoscete così bene. Come stai Filippo? Sto bene, domande semplici. Com'è stato l'arrivo ieri a Sene Modè? Questa è emozionante. È stata la prima volta per te in coppia, giusto? Sì, assolutamente. Anche per me. Anche per te. Però Francesco, scusa, domande un pochino più scomode? Più scomode. Cosa hai fatto ieri? Chi se lo ricorda? No, no, mi interessa. Lo vedi? Perché qui vengono fuori le pecche mnemoniche. A lui è quello che... La memoria. Quindi anche la canzone... Diciamo che ho un database quasi full. Allora io le cose che non mi interessano entrano e escono direttamente. E lui fa parte di una di queste cose. Siccome è sempre presente, allora io ormai quello che dice lo elaboro e poi lo lascio andare. Quindi la faccia di Francesco quando magari dimentica un pezzo di canzone? Succede spesso, ride. Succede anche qua. Ride, ride, ride. Si ride per non piangere fondamentalmente. No, lì entra già quel mestiere, alla fine fai supercazzole di solito. Io ricordo un episodio quando eravamo con Max, quando facevamo il trio all'Arena di Verona. Noi abbiamo dei monitor, parti di testi, perché poi ti dimentichi, ce l'hanno tutti, non solo noi. E quindi lui si è spostato dalla traiettoria del monitor e stava cantando Fatti Avanti Amore. Abbiamo un passivo, abbiamo un bocchio per dare il bacio, e poi è ritornato indietro perché non riusciva più a cantare. Lui ginocchio che rideva in arena. Abbiamo un appuntamento qua, stessa ora. Ci contiamo. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Ciao, ciao. Grazie a Francesco Renga, a Neck e ovviamente a Fiorella Mannoia.